presidente zelensky grazie per essere stato con noi prima di andare vorrebbe condividere cosa la spinge ad andare avanti si sente mai sconfitto ho un sacco di potere ma anche se ci sentiamo forti e abbiamo un sacco di energia non significa che vogliamo combattere solo per sopravvivere perché il prezzo è alto perché la guerra prende il meglio di noi i migliori eroi i migliori uomini donne e bambini questo è tutto non siamo pronti a dare la nostra libertà a questo fottuto terrorista di nome putin questo è tutto questo è il motivo per cui stiamo combattendo salve amiche e amici e oggi ho aperto così insomma anche in risposta a tutte le dichiarazioni che stanno arrivando in questi giorni circa una resa dell'ucraina l'ucraina non si arrenderà e mi collego anche fra l'altro questo un po la sintesi del discorso che ha fatto zelensky poco fa ora oggi vi porterò alcune notizie interessanti prima di tutto c'è stato un attacco dronico ucraino su mosca qualcosa come 32 droni che sorvolavano la capitale stamattina poi vi parlerò anche dell'ultima analisi condotta dal de istituto war studi indipendenti che ha fatto appunto un'analisi delle degli eventi e dei fatti avvenuti fra ottobre e novembre con otto punti sintetizzati parleremo poi anche degli aggiornamenti che arrivano dal fronte di una eventuale proposta dell'amministrazione trump per far finire la guerra e poi di alcune forniture che sono state confermate sia da parte degli stati uniti che dalla francia e per concludere i discorsi saranno sulla condizione delle donne in iran quello che sta accadendo quindi mettetevi comodi come sempre mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale è il momento giusto per mettere in pausa sotto al video troverete i pulsanti per iscrivervi lasciare un mi piace e attivare la campanella tre gesti assolutamente gratis che permettono al canale di crescere e di autosostenersi quindi come dicevo l'istituto war ha pubblicato gli studi vi passo tutto in descrizione c'è il pdf che appunto spiega un po quello che è successo in questi due mesi alcune di queste cose ne abbiamo già affrontate nei giorni scorsi un po diciamo ecco ci pongono un'altra prospettiva su gli stessi argomenti che abbiamo già affrontato il primo punto è che secondo quanto riferito le forze russe hanno perso qualcosa come 200 carri armati oltre 650 veicoli blindati e hanno subito circa 80.000 vittime conquistando circa 1500 chilometri quadrati durante un periodo di intensificate operazioni questi sono i report che arrivano tutti i giorni e parlano piuttosto chiaro insomma delle perdite che subiscono continuamente le forze russe alla fine otterranno significativi guadagni territoriali se le forze ucraine non riusciranno a fermare le operazioni offensive russe in corso ma l'esercito russo non può sostenere tali tassi di perdita indefinitivamente soprattutto per guadagni così limitati le forze armate ucraine hanno condotto attacchi con droni fra l'altro contro l'impianto chimico di alexin nell'oblast di tula di questo ne parleremo anche fra poco proprio nella notte fra l'otto e il nove novembre secondo quanto riferito le autorità russe stanno valutando la possibilità di fondere le tre maggiori compagnie petrolifere russe probabilmente per aiutare la russia a raggiungere accordi energetici più vantaggiosi con i paesi suoi alleati quindi non con l'occidente il 9 novembre le autorità russe hanno arrestato per frode un ex funzionario del ministero della difesa russo quindi ecco un altro oligarca che sparisce l'otto novembre il dipartimento della difesa degli stati uniti avrebbe dichiarato che invierà un piccolo numero di appaltatori della difesa nelle zone arretrate dell'ucraina per riparare equipaggiamenti attrezzature forniture degli stati uniti di questo ne ho parlato proprio ieri è una notizia fresca le forze ucraine poi hanno recentemente riconquistato posizioni nella zona di pokrovsk mentre le forze russe sono avanzate più a sud questi sono gli ultimi guadagni territoriali il ministero e scusate il ministro degli esteri ucraini ucraino andrei svirka ha dichiarato il 9 novembre che l'intelligence ucraina stima che la russia sarà in grado di produrre il 30 per cento in più di proiettili di artiglieria rispetto a tutti i paesi dell'unione europea messi insieme questa come proiezione di dati di produzione del 2025 questo qualora l'unione europea non riuscisse a implementare misure aggiuntive contro la base di produzione bellica industriale russa quindi questi sono gli otto punti proposti in questo pdf ve lo passo in descrizione è un po una sintesi di quanto ho appena detto in cui appunto fa un'analisi anche delle vittime questo è proprio tutto il pdf ve lo passo in descrizione per quanto riguarda l'impianto chimico di alexin presso la regione di tula queste sono le immagini che sono arrivate ieri appunto l'impianto sta bruciando la popolazione stata evacuata ed era un impianto fondamentale della russia si trova qui a sud di mosca per la produzione di esplosivi per esempio di quello che è correlato alla produzione bellica poi per parlare dei discorsi che fra l'altro stanno emergendo in continuazione anche nei telegiornali nostrani che riguardano appunto le previsioni e di quello che potrà fare la futura amministrazione trump in cui tutti si aspettano una sorta di via diplomatica per una cessazione delle attività belliche da parte russa è interessante questo post pubblicato da tender dall'utente tender che un analista militare tedesco in cui appunto fa un'analisi interessante penso che sia un ottimo spunto di riflessione la sintetizzo fondamentalmente quello che lui dice è che c'è stata una proposta da parte della futura amministrazione trump che considera la creazione di una zona demilitarizzata tra le forze ucraine e russe lungo questa linea di confine rossa che vediamo in questa immagine quindi si parla di qualcosa come 1800 chilometri di zona demilitarizzata una sorta di zona cuscinetto che fra l'altro non include neanche la belorussia vabbè la linea di contatto comunque dovrebbe essere presidiata da forze europee è nato quindi prevede uno schieramento di truppe nato in ucraina a protezione dei confini per impedire un'ulteriore avanzata russa ora la linea di contatto è troppo lunga e l'europa dovrebbe schierare più truppe di quelle che ha alla fine per coprirla tutta tuttavia questa proposta se fosse vera offrirebbe una grande opportunità per l'ucraina perché include qualcosa di molto più interessante ora è chiaro intendiamoci questo piano non è fattibile ma principalmente a causa della zona cuscinetto ma il più grande ostacolo ovviamente è la russia se consideriamo che la russia ha iniziato questa guerra di invasione sia per accaparrarsi territori dell'ucraina ma anche per impedire che l'ucraina entrasse nella nato ora è chiaro che schierare truppe nato in ucraina sarebbe no lo smacco più grande per la russia sarebbe proprio quello che non voleva all'inizio immaginate eserciti europei sul suolo ucraino a diretto contatto con le forze russe ci riporterebbe indietro agli anni 80 alla cortina di ferro e al muro di perlino letteralmente però immaginate un muro di 1800 chilometri è veramente impensabile oltre appunto a una polveriera letteralmente che potrebbe scoppiare da un momento all'altro è chiaro questo sarebbe veramente uno smacco per la russia e fra l'altro il consolidamento di questa linea difensiva considererebbe che la russia non ha raggiunto nemmeno un obiettivo strategico prefissato dall'inizio dell'invasione su larga scala del 2022 quindi la russia non avrebbe sacrificato qualcosa come 700.000 uomini per niente per non ottenere progressi significativi strategici in ucraina e in più si vedrebbe schierarsi truppe nato in ucraina quindi questa proposta se fosse vera se fosse l'argomento proposto dall'amministrazione trump sarebbe una doppia sconfitta per la russia ora l'analisi interessante di questo articolo è questa cioè se la russia accettasse questa proposta sarebbe una sconfitta ok ma se non accettasse questa proposta cosa accadrebbe beh di sicuro l'amministrazione trump resterebbe piuttosto infastidita da un rifiuto del genere il che si trasformerebbe in un ulteriore supporto per l'ucraina quindi in entrambi i casi in queste due prospettive queste due previsioni di sicuro per la russia non finirebbe bene ok questo è un po il sintesi di tutto questo articolo vi passo in descrizione se vi interessa poi andiamo avanti per quanto riguarda gli aggiornamenti dal fronte la situazione è rimasta piuttosto invariata si segnalano scontri nella regione di kursk ma i progressi sul territorio restano gli stessi anche questa fra l'altro insomma se consideriamo il discorso che ha appena fatto sui progressi e eventuali trattative di pace putin deve considerare che parte del proprio territorio è stato occupato da truppe ucraine quindi ecco da un punto di vista diplomatico torna l'utilità di questa zona della regione di kursk che molti hanno detto continuano a ripetere che da un punto di vista militare non ha avuto senso e che le truppe ucraine avrebbero fatto meglio a difendere altrove ed è in parte vero o condivido questo discorso ma d'altro canto prima di questa invasione della regione di kursk gli ucraini non avevano niente in mano adesso quantomeno i russi hanno tipo tre carte e gli ucraini ne hanno una con cui poter imbandire una sorta di trattativa imbastire come si dice quindi altri progressi a est non ci sono vi avevo segnalato nei giorni scorsi che mi aspettavo qualche sorta di iniziativa nell'area di chiasi viar da parte russa in effetti poi c'è stata qui dove le truppe sono in contatto in quest'area e sembra che ci sia stato un avanzamento da parte da parte russa in questi campi quindi si è estesa l'area contesa a sud di chiasi viar per quanto riguarda poi toresk dove continuano i combattimenti e le significative azioni di bombardamento e dronico attacchi dronici ucraini ai danni delle forze russe vediamo che comunque i russi stanno cercando di tenere le posizioni e hanno fatto un piccolo progresso poco più a sud di toresk nella direttiva principale o almeno come alcuni dicono il saliente di pokrovsk nella direttiva principale non ci sono stati progressi da parte russa mentre appunto i progressi più importanti continuano nell'area di kurakove dove appunto ci sono stati diversi attacchi questo successo giorno 8 con carri armati da parte russa interessante questa posizione proprio di stamattina dove truppe ucraine che si erano insediate in questi edifici sono riuscite a ritirarsi infatti i dati satellitari parlano appunto di una ritirata da parte loro da questo piccolo villaggio parliamo di quello che è successo a mosca che in sé voglio dire 32 droni che sorvolano la capitale e poi finiscono per mandare in fumo parecchie aree perché ovviamente poi le autorità moscovite hanno detto che tutti i droni sono stati intercettati in realtà come al solito poi questi droni lasciano per dirla con parole loro briciole che poi incendiano le cose e si insomma sono dati che posso confermare questo la cosa interessante di questo attacco con 32 oggetti sopra il cielo di mosca non è l'azione in sé che voglio dire strameritata visto che tutte le notti kiev odessa kharkiv vengono sistematicamente colpite dagli attacchi terroristici russi quanto il fatto che gli ucraini per questo attacco hanno utilizzato un drone particolare il il bayraktar tb2 drone questo che vediamo in queste immagini spero che si veda si non è tanto un drone in stile che viene dato da diran alla russia che è un drone esplosivo questo è un mini aeroplano vero e proprio che addirittura una telecamera per ricognizione come vediamo in questa immagine vediamo se si vede no qui fra l'altro a quattro piloni che possono equipaggiarsi con missili o bombe quindi è un vero drone ad attacco al suolo e ricognizione ed è questo è piuttosto interessante soprattutto perché a seguire questi queste pubblicazioni secondo alcuni questa questo sciame di droni ha avuto lo scopo non tanto di colpire la capitale ma di fare ricognizioni su tutto quello che hanno visto nel loro percorso fino a mosca e poi mappare i punti difensivi della capitale moscovita della capitale russa quindi in qualche modo possono aver mappato tutti tutte le posizioni di difesa missilistica e strategiche intorno alla capitale quindi sì ottima notizia per parlare di forniture all'ucraina stamattina è stata confermata questo è successo attraverso il washington journal che è una rivista un media americano diciamo che si oddio non trovo le parole oggi è un giornale americano repubblicano e questo articolo parla della fornitura della gm 88 e all'ucraina il che non è una notizia da poco perché fino ad oggi gli ucraini hanno già utilizzato la gm 88 lo abbiamo visto spesso lanciarlo da aerei come il mig 29 il su 27 ed è un missile antiradiazione cioè lui che cosa fa capta le onde radar emesse da antenne postazioni antiaeree e va ad agganciarsi su quelle e le colpisce quindi si dirige sulle fonti radar la versione è la versione extended che ha una diverse migliorie fra cui una guida inerziale e un piccolo radar al suo interno che scansiona ed è praticamente più forte rispetto alle contromisure ora la classica azione difensiva delle postazioni missilistiche che ricevono i lanci di questi missili e quella di spegnere la fonte cioè se è un'antenna emette onde elettromagnetiche la postazione spegne tutto a quel punto il vecchio gm 88 potrebbe perdere la traccia e la guida e quindi diventerebbe inutile la gm 88 è a un sistema che per gli permette non solo di sfruttare la guida inerziale che avevano già i missili precedenti ma anche un piccolo radar che fa scansioni e rileva gli oggetti metallici quindi loro possono anche spegnere l'antenna radar ma la gm 88 e arriva a destinazione comunque quindi è un ottimo un ottima notizia per le forze aeree ucraine per la loro capacità di soppressione delle difese aeree russe altra notizia sempre di quanto per quanto riguarda equipaggiamenti la francia ha confermato l'invio di mistral il missile terra aria o aria aria perché questo missile in realtà può anche essere equipaggiato da elicotteri eventualmente il più famoso è sicuramente il gazelle francese ed è un missile piccolo vedete lo vediamo qui in un sistema spalleggiabile montato su un camion probabilmente un pick up quindi è un sistema antiaereo che sfrutta una tecnologia avanzata fra l'altro il sistema infrarosso quindi sono fra l'altro missili che sono stati migliorati molto a partire dal 1997 che offrono una buona resistenza alle contromisure quindi per concludere passiamo al discorso su me ne avevo già parlato nei giorni scorsi che riguarda la ragazza iraniana che aveva protestato spogliandosi stando in biancheria contro la polizia morale iraniana poi questa ragazza è stata arrestata a quanto pare è finita in carcere in gravissime condizioni non posso dirvi altro però lo lascio immaginare qualcuno nei commenti mi aveva detto enrico ma possibile che in italia nessuno protesta o prende questo tipo di messaggio per parlare appunto dei diritti delle donne è possibile che in italia tutti stanno a parlare della palestina nessuno protesta per le donne iraniane beh in in inghilterra questo è un video che viene proprio da londra c'è già chi sta prendendo la ragazza come esempio e ci sono molte che si vestono come lei e protestano protestano per strada fra l'altro oggi a milano davanti al consolato iraniano è apparso questo graffito quindi qualcosa si sta muovendo e devo anche segnalare fra l'altro che i gruppi femministi come per esempio l'associazione non una di meno che purtroppo sciaguratamente diventato famoso per aver impedito alle donne ebree il 25 novembre scorso di salire sul palco per la manifestazione contro il 7 ottobre e poi viene detto in questo articolo che come è possibile che solo la lega e la destra si protesta per le per per i soprusi sulle donne iraniane io penso che sia sbagliato nel senso credo che questi questi argomenti siano trasversali a destra e la sinistra è proprio insensato fare un discorso di parte perché qui si parla fondamentalmente di diritti delle donne non si può essere divisi non ci può essere divisione su questo insomma è piuttosto grave questa è un'opinione mia personale però credo che la sinistra stia perdendo colpi ultimamente stia facendo stia scegliendo male le proprie battaglie in sostanza questo è quello che credo soprattutto per il fatto che la sinistra dovrebbe essere quella che dovrebbe avere le idee quanto più chiare possibile su questi argomenti credo eh però di questo ne parlerò anche fra poco e mi collego anche ad altro perché qui non si parla di estremismo qui si parla di avere le idee chiare non a caso la svizzera ha appena bannato ufficialmente il volto velato le donne non possono andare in giro in svizzera col volto velato e su questo io penso di essere completamente d'accordo cioè è una cosa completamente priva di senso dell'islam e della loro cultura che ci riporta indietro non al medioevo perché alla fine il medioevo è stato un periodo molto più illuminato in italia in europa di quello che si crede ma proprio a una forma di recessione mentale a livello di trogloditi fare indossare una cosa del genere a una donna mi collego anche alle parole di un ministro della deputata del primo ministro svedese eba bush che vediamo anche in questa immagine non so perché ma ho iniziato a cercarla c'è qualcosa in lei che me la fa mostrare più volte le sue parole sono semplicemente condivisibili secondo me poi posso voglio dire sono opinioni mie personali insomma per quanto riguarda la svezia ha detto che l'islam deve adattarsi ai valori svedesi i musulmani che non si integrano dovrebbero lasciare il paese gli omicidi d'onore le strutture di clan le tagliate di testa le lapidazioni delle donne e le leggi della sharia non appartengono a questo posto semplicemente parole condivisibilissime che dovrebbero essere ripetute anche in italia per cui io non sono diciamo sono una persona estremamente tollerante però essere tolleranti non significa accogliere gli estremismi e il nostro paese su questo dovrebbe avere le idee chiare molto più chiare soprattutto perché tante cose non non le sappiamo o non se ne parla e per concludere i fatti vi lascio con questa pagina di wikipedia che vi invito a visitare perché ci dà anche una consapevolezza supplementare su quelle che sono le giuste battaglie da 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 prendere da sposare in particolare questa è la pagina di wikipedia che parla della persecuzione dei cristiani e questo invito soprattutto le persone che oggi si schierano con la palestina a dargli una lettura proprio perché appunto erroneamente si crede che i palestinesi siano abbiano il dente avvelenato solo verso gli israeliani poi magari ecco converrebbe dare una lettura per capire che in realtà i cristiani non sono stati perseguitati solo in epoca romana ma fino ad oggi letteralmente e con questo concludo so che possono sembrare discorsi un po così superficiali però ecco penso io le mie idee sulle religioni sono piuttosto estreme penso che siano appartengono a una sfera personale e non dovrebbero essere assolutamente entrare nella vita politica e civile di un paese debbano essere relegate a una sfera personale e individuale e basta se vedo tutte le volte che vedo leader religiosi parlare di politica sono molto molto scettico diciamo che non mi va molto a genio la cosa pensiero mio personale e questo è quanto quindi fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando un abbraccio alla prossima